Una competizione l'abbiamo presa con il DNA dello sportivo, quindi fino all'ultimo centimetro non molleremo mai. Sì, ho praticato nuote canoa, oggi sono ancora presidente della Canottieri Sanremo, quindi una vicinanza al mondo dei giovani dello sport, ma sport è sia sport per tutti i nostri cittadini, sia noi si giovani, i nostri disabili, i nostri anziani e anche turismo sportivo. Di questo parleremo nel nostro programma che verrà declinato puntualmente domenica alle ore 11 al treato centrale e ci sarà anche ospite d'onore il sindaco di Genova Bucci. Cos'è per voi lo sport? Lo sport è vita. Io penso che sia un tema che noi dobbiamo sviluppare a Sanremo in maniera importante, sia per le nostre palestre di prossimità, quello che richiedono le mamme e i giovani che devono essere vicini a palestre per fare sport sempre. Due, centralizzare le risorse. Noi abbiamo il programma La Cittadella dello Sport e della Cultura che verrà ubicata al Mercato dei Fiori e centralizzare significa prendere un budget e dedicarlo a tutte le associazioni sportive di Sanremo con una strategia comune, infatti pensiamo a una forma di Sanremo Sport, una forma di polisportiva comunale che dia delle linee guida a tutte le nostre associazioni sportive che più o meno fortunate chi ha bisogno di una segreteria centralizzata, chi ha bisogno di essere affiancato per i loro associati anche se pochi, ma Sanremo è veramente una città, è un palazzetto a cielo aperto e di conseguenza certe scelte fatte da questa amministrazione che di sport in realtà non si è mai occupata, noi le vogliamo veramente portare al centro del nostro programma. Sicuramente il turismo sportivo è una leva importante, bisogna lavorarci con una strategia, andare a ricercare le manifestazioni e portarle sfruttando poi una ricettività che localmente offre, parlo degli alberghi, parlo della ricettività della ristorazione, quindi la città deve essere pronta ma la dobbiamo noi aiutare come amministrazione ad essere pronta per ricevere gli eventi sportivi. Ne abbiamo tanti, abbiamo tanto capitale umano che Sport ne ha fatto e soprattutto nella squadra di governo che porto in amministrazione ci sono tante persone che hanno fatto sport e ne sapranno declinare i valori. Un'ultima battuta a Sergio Tomasini che oggi ha la competizione più importante allo sport, quali valori ha lasciato, insegnato? Il sacrificio, la dedizione, non mollare mai sono valori che lo sport ti insegna, ti porti dentro e secondo me sono stati profusi anche nella squadra che porto al governo di questa amministrazione. Il senso di squadra è una cosa fondamentale, non c'è mai un uomo solo al comando ma c'è una grande squadra che si confronta con umiltà e si confronterà con i cittadini di Sanremo. Più che una vita dedicata al triatlo non una vita dedicata allo sport perché comunque sia in passato sono stato un nuotatore, sono stato un triatleta ma poi ho scelto anche una via accademica, una via lavorativa nel mondo sportivo. Adesso inizia una nuova avventura, questa qui al fianco di Sergio Tommasini all'interno della lista 100% Sanremo, Sergio Tommasini sindaco. Vorrei mettere al servizio della città di Sanremo, una città che comunque in questi anni mi ha dato tanto, le esperienze che ho fatto in questi anni in ambito sportivo sia dal punto di vista lavorativo che anche dal punto di vista professionale e del volontariato perché comunque ricopro la carica di presidente all'interno dell'associazione sportiva di Sanremo che faccio volontariamente organizzando eventi e gestendo tutto quello che è l'attività sportiva. A Sanremo ha bisogno a livello sportivo di una valorizzazione dello sport sostanzialmente e per farlo bisogna che ci sia una programmazione a medio lungo termine e bisogna sostanzialmente da un certo punto di vista far crescere le società sportive locali che in questi anni a mio avviso sono state anche un pochettino abbandonate a se stesse. Bisogna portare professionalità, bisogna portare programmazione. A oggi ad esempio non c'è ancora un calendario manifestazioni per il 2019, siamo ai primi di aprile, chissà quando uscirà. Tutti quanti noi che dobbiamo organizzare manifestazioni teniamo conto che il 70% delle manifestazioni del Comune di Sanremo in calendario sono sportive, non sappiamo ancora se le potremo organizzare oppure no. Ci sono degli accordi di massima ma non c'è ancora niente di certo. Ci auguriamo che quanto prima smuovano il calendario. Poi naturalmente si possono far crescere alcuni eventi che in questi anni sono rimasti piccoli per tutta una serie di motivazioni tra i quali il fatto che comunque l'amministrazione non è stata molto vicino alle società e possiamo assolutamente andarci a prendere anche altri eventi. Le federazioni ad esempio oggi stanno cercando partner con cui organizzare eventi sportivi che siano di alto livello, che siano per i master, che siano per i giovani. Hanno bisogno di partner, in questo caso le istituzioni, in questo caso le società sportive, che li aiutino a portare manifestazioni all'interno di palcoscenici conosciuti come ad esempio Sanremo. Sanremo è un brand molto molto conosciuto. Per lavoro mi capita di viaggiare prevalentemente in tutta Italia ma anche all'estero. Mi sono stupito di vedere manifesti di tanti anni fa, di manifestazioni organizzate a Sanremo al campo ippico, piuttosto che al tiro a volo, piuttosto che in altri ambiti. Quindi questo da una parte mi fa piacere ma dall'altra mi dispiace perché in questi anni non si è più fatto nulla purtroppo. Io intanto ho sempre vissuto nello sport, da atleta della nazionale poi sono diventata allenatrice federale, adesso seguo la canottieri da ormai più di 30 anni, ho l'opportunità di avere Sergio Tomasini come presidente e quindi per me lo sport è sempre stata la mia vita. Secondo me lo sport è diventato il punto di riferimento di tutta la nostra campagna elettorale in quanto, così come dice anche Sergio, di sport Sanremo potrebbe vivere perché lo sport comunque può essere inteso come turismo sportivo, può essere inteso come aggregazione sociale e quindi un benessere per anziani, per giovani e può anche essere inteso come miglioramento della vita generale della città. Il concetto di squadra è un concetto fondamentale, basilare sia per quello che siamo oggi sia per quello che saremo in futuro. Ovviamente essere una squadra ha i suoi vantaggi, c'è la possibilità di avere collaborazione, di poter interagire e confrontarsi che sono secondo noi aspetti fondamentali per una crescita, una crescita sia nostra sia della città stessa che oggi ci accingiamo a voler rappresentare come futuro governo ovviamente. Cosa può fare lo sport per migliorare Sanremo? Sanremo ovviamente è famosa in tutto il mondo, è un brand, però oggi questo brand conserva prevalentemente l'immagine mentre si è svuotata un po' dei contenuti. Lo sport è sicuramente un valore fondamentale, unito al clima che ha il suo potenziale, però obiettivamente oggi non basta più, quindi è necessario dare una svolta. La svolta significa creare tutte quelle situazioni che possono portare un beneficio sia turistico e contestualmente collegarlo ad esempio all'enogastronomia, alla cultura, al territorio.